perché c'è un controluce allora ciao ragazzi questa è un'altra video lezione dato che vi avevo promesso di fare una lezione con mio padre ora è più facile perché siamo qui lui è mio padre Vito di Bari ciao ragazze e ragazze cultore diciamo di che sei diciamo vabbè lui ha un curriculum troppo lungo di storia sociale e storia contemporanea all'università di Bari cultore di storia sociale all'università di Bari niente vi farò una lezione sulla differenza tra i regimi totalitari di destra e i regimi totalitari di sinistra noi abbiamo già visto in parte lo salinismo vi farò poi un approfondimento perché quello che avete sul testo è veramente troppo poco abbiamo visto anche il fascismo e il nazismo in maniera abbastanza approfondita abbiamo guardato la guerra civile spagnola e quello che poi ne consegue quindi e il regime di Francisco Franco poi vi inserirò un approfondimento sul Giappone e l'America Latina però chiaramente c'è una differenza diciamo tutti si chiedono se esista poi di fatto una differenza tra i regimi totali di destra e di sinistra noi abbiamo parlato un pochettino di questo perché? perché nelle tracce di simulazione della prima prova c'era una traccia sui lager e gulag e quindi capire c'era un articolo che parlava della differenza tra queste due realtà e coi ragazzi abbiamo parlato più che altro degli obiettivi cioè il fatto che il gulag nasce soprattutto come una prigione una detenzione punitiva mentre il lager da campo di lavoro e di concentramento diviene poi una vera e propria organizzazione campo di sterminio diciamo lo sterminio nell'ottica nazista è proprio strutturato non è punitivo ma è un vero e proprio progetto che il nazismo porta avanti ora cedo la parola al professore e io faccio solo da io intanto vi saluto e vi ringrazio per la pazienza spero di non confondervi di più pazienza nei miei confronti no la pazienza nei miei spero di non confondervi di più le idee che ha già confuso lei penso va bene? allora la domanda è quali sono le differenze tra il totalitarismo di destra e quello di sinistra è una bella domanda sull'argomento si sono versati fiumi di inchiostro scusate leggo perché ho preso una scaletta per evitare di allungarmi se no durerebbe 4 ore cioè puntate no si sono versati fiumi di inchiostro in qualche migliaio di libri roba da far venire un temporale nel cervello bene bisogna che chiarisca che per forza di cose e di tempo ciò che andrò argomentando sarà necessariamente una risposta solo parziale e schematica detto quello delle migliaia di libri è chiaro sul terreno politico come su quello scientifico il concetto di totalitarismo viene elaborato dopo la prima guerra mondiale ha già detto del franchismo noi abbiamo già studiato siamo già lì con Franco Francisco Franco e il fascismo e il nazismo siamo già in pieno totalitarismo dicevo sul plano politico e su quello scientifico il concetto viene elaborato dopo la prima guerra mondiale in quel periodo che è stato storicamente definito l'età dei totalitarismi che indicativamente ritengo che vada dalla fine della prima guerra mondiale al 1953 con la morte di Stalin in generale si fa questo ragionamento qualcuno dice che prosegue eccetera eccetera ma la diatriba tra gli storici eccetera non ve la metto in campo se no mi fucilerete dopo quando dico piano scientifico intendo dire che se ne sono occupati ovviamente gli storici ma sui sistemi totalitari si è sviluppata la ricerca sociologica psicologica economica e anche psichiatrica prima della cosiddetta guerra mondiale grande guerra i termini totalitario e totale erano usati occasionalmente per indicare rispettivamente la misura del dominio politico come un governo o uno stato o un dittatore dominava politicamente oppure l'estendersi di una guerra di un conflitto che poteva essere totale oppure limitato locale eccetera oggi si parla di totalitarismo facendo riferimento principalmente a tre sistemi dittatoriali di dominio che si sono sviluppati come si è detto fra le due guerre mondiali il fascismo in Italia il nazismo in Germania che sono regimi di destra chiaramente lo stalinismo in Russia regime di sinistra o il franchismo in Spagna ma perché è di destra lo stesso il totalitarismo come sistema politico è la conseguenza immediata della crisi generata dalla prima guerra mondiale la prima guerra mondiale tanto il fascismo e il nazismo quanto il comunismo sono strettamente connessi alle conseguenze politiche sociali ed economiche della guerra oltre che con le sfide ideologiche che ormai erano in campo e si inasprivano anche a Zoe piace parlerò di fascismo nazismo e comunismo dando per scontato che la professoressa Isabella Di Bari qui presente mia figlia ve ne abbia già parlato o ve ne parlerà o ve ne parlerà le pur grandi differenze esistenti in particolare fra i sistemi autoritario nazionalistici fascismo e nazismo e il comunismo dovremmo forse dire meglio lo stalinismo come perché la prima fase leninista non può giudicarsi non può giudicarsi totalitaria abbiamo parlato di questo e abbiamo parlato anche di come il partito comunista in Italia si stacchi dal partito socialista e nel partito comunista abbiamo anche due attiche differenti Togliatti da un lato che vede invece in Stalin il grande leader comunista e Gramsci questo come sui loro libri Gramsci dall'altro lato il vostro libro se parla in questi termini del partito comunista italiano della presenza di Togliatti dall'internazionale diciamo che fa una sintesi molto estrema purtroppo i libri del testo molto estrema devo dire non scientificamente corretta mi permettete perché avendo studiato a fondo le cose molti libri di testo diciamo sono piuttosto superficiali comunque diciamo che abbiamo guardato la differenza anche tra leninismo e salinismo i ragazzi hanno studiato con il supporto del libro di Barbero almeno lì siamo un po' c'è un po' di affidabilità le grandi differenze esistenti tra i due sistemi autoritari o nazionalistici che sono quei regimi di destra dove il nazionalismo si combina con l'autoritarismo fascismo nazismo il comunismo vengono oggi schematizzati con il concetto generale di totalitarismo che vuol caratterizzare la forma moderna estrema della dittatura cioè il totalitarismo come forma moderna estrema della dittatura estrema gli ricordo sempre che la dittatura in realtà deriva da quella romana dove il dittatore era una carica che era prevista per sei mesi che era chiamato per risolvere delle controversie e dopo i sei mesi si tornava poi all'organizzazione repubblicana da Silla in poi c'è l'abuso della dittatura c'è stato un grande filologo Luciano Canfor che ha scritto un libro come si chiama Cesare dittatore democratico dittatore democratico oddio sono due termini che in genere in realtà Cesare non è mai diventato dittatore viene ucciso perché si annusava ha scritto dittatore democratico quindi gli storici si dilettano dunque sono stati in prevalenza i sostenitori di una concezione liberale della democrazia a definire a partire dal concetto di totalitarismo la differenza fondamentale fra le democrazie occidentali e le dittature moderne sia di destra che di sinistra cioè la concezione liberale dello Stato la rappresentanza parlamentare le elezioni parlamentari eccetera definisce meglio il rapporto con il totalitarismo nel senso che il totalitarismo c'è uno Stato unico partito unico il capo che ha una funzione importantissima all'interno dei sistemi in totalitario poi magari vediamo ebbè non a caso Duce Führer Caudillo Guida in tutti e tre i casi il significato è Guida la processa è brava la mela non cade lontano dall'albero ma ovviamente sono sempre una mela io ho degli occhiali che non sono i miei non c'è bisogno allora veniamo a ragionare sulle differenze allora vediamo un po' se diciamo in qualche modo troviamo delle ok allora eravamo alla ai sistemi con eccezione liberale della democrazia che fa da spartiacque tra i totalitarismi le dittature i regimi cosiddetti democratici o gli Stati democratici ora veniamo a ragionare sulle differenze vediamo un po' dunque la prima cosa la prima differenza che si può constatare è la conquista legale tra virgolette del potere di stampo fascista nazista che si presenta del tutto diverso dalla rivoluzione comunista d'ottobre diciamo anche se abbiamo visto che questo legale tra virgolette non dimentichiamo perito Matteotti la conquista legale perché su questa questione della conquista legale ci sarebbe da dire molto come una democrazia uccide la sua democrazia per esempio perché se c'è un regime parlamentare che elegge eccetera eccetera poi come finisce uno dei quesiti storici importantisti perché un regime parlamentare democratico liberale è finito nel fascismo e nel nazismo lo zarismo è un'altra cosa lì c'è una rivoluzione contro un imperialismo zarista che diciamo anche lì quella era una forma di dittatura estrema lo zarismo possiamo chiamare totalitarismo anche quello è una monarchia assoluta anzi la Russia era l'unico stato europeo che all'epoca aveva ancora una monarchia assoluta anche quella dunque è tutto diverso lì c'è stata una rivoluzione durante la guerra però nel 17 il che già apre un'altra questione di come si è mossa Lenin a un certo punto dice trasformiamo la guerra imperialista in guerra in guerra di classe quindi si crea tutta una discussione nel campo comunista dell'epoca nella terza e nella seconda internazionale va bene dopo il fallimento da parte dell'internazionale socialista che mentre i socialisti erano contro la guerra erano internazionalisti è un'altra delle differenze mentre i comunisti sono internazionalisti nazisti e fascisti sono nazionalisti e razzisti peraltro sì l'abbiamo visto anche però fallì i partiti socialisti del tempo tranne quello italiano perché va detto che fu uno dei soli partiti socialisti europei che si disse contro la guerra e continuò contro la guerra poi si scisse per una parte ma continuò a maggioranza contro la guerra tutti gli altri partiti socialisti europei votarono i diciamo i i i i i i crediti di guerra gli armamenti sostanzialmente è la guerra perché alla fine c'è un suggeritore che potete immaginare chi è loro che lo conoscono per dire traverse dunque quindi comunque in tutti e due i casi c'è un problema diciamo che va dal punto di vista metodologico e storiografico affrontato una parte decisiva nel meccanismo di conquista totalitaria l'ha avuto il meccanismo diciamo del colpo di stato dei colpi di mano della rivoluzione di ottobre Lenin assunzi in un certo momento dalla crisi all'interno del movimento eccetera dei socialisti dei rivoluzionari eccetera assunse la decisione e ci riuscì di stringere e di fare un colpo diciamo di in qualche modo di chiudere il discorso dalle liti interne a sinistra ovviamente come spesso succedeva di dire o lo facciamo o facciamo la rivoluzione c'è la reazione come diceva già Gramsci in una discussione che poi verrà nel diciamolo c'è qualcuno che ha fatto un approfondimento su Gramsci che devo ancora vedere speriamo Bazzano dunque però questa è una prima cosa il fatto che la rivoluzione comunista è diversa dalla conquista legale tra virgolette del potere da parte del fascismo dell'azismo a cui fu consegnato da parte dei liberali praticamente lo Stato che poi diventò totalitario alla faccia loro persino che si ritrovarono in galera molti che avevano i partiti popolari molti che avevano votato le leggi eccetera le leggi fascistissime persino e poi finirono in galera in Italia i liberali perché invece almeno da quanto diciamo sul loro testo per quanto riguarda il nazismo non dico che sono accentuati gli errori della Repubblica di Weimar dei socialisti ma si erano divisi in tanti tronconi poi c'è vabbè tutta una storia furono la socialdemocrazia tedesca che fece diciamo fece come dire ammazzò l'Albenkett e la come si chiama Carl Albenkett e Rosa Lussemburg di spartachisti per cui paradossalmente una che si diceva di sinistra per dar l'idea di mantenere l'ordine per dar l'idea di mantenere l'ordine poi vediamo questa questione dunque un altro aspetto importantissimo che poi è distintivo ancora oggi diciamo di concetti di economia ed ideologia tra liberalismo e collettivismo diciamo in questo modo i sistemi economici sono ben diversi cioè il fascismo e il nazismo agiscono pur sempre in un sistema a carattere capitalistico che è importante l'alleanza tra capitalismo o capitalisti e fascisti e nazisti non è secondaria questa questione il comunismo in Stavria agisce in un sistema collettivistico dove è abolita la proprietà privata dei mezzi di produzione che è la ragione ecco forse se potessi fare qualche qualche non tre ore minuto perché i ragazzi chiedono sempre ma quindi come funzionava tutti avevano tutto quello che era dell'altro era mio come funziona ho cercato di spiegarlo diciamo il loro testo non approfondisce molto questa questione distinguiamo tra uso e proprietà io ho la casa la uso non è di mia proprietà perché se io non ci sto più viene data ad un altro fino a quando la uso la uso alla mia famiglia eccetera è una casa in quel momento diciamo in quella fase della storia la terra è uno dei problemi centrali della rivoluzione la terra ai contadini cioè lì c'erano intere regioni c'è un'Italia intera di proprietà di un barone su cui tra l'altro lo zar aveva sempre opzioni perché diciamo restava il sistema feudale in Russia e per cui l'abolizione di questo sistema feudale è fondamentale per la rivoluzione d'ottobre la rivoluzione d'ottobre vuole dare la terra ai contadini che è una questione che si apre in Italia pure perché quando si fece la prima guerra mondiale i contadini che si andavano a massacrare sul caso eccetera si promisse promissero i generali i generali ma promisse anche il governo fatto dai capitalisti peraltro che avrebbero dato le terre ai contadini eccetera c'è una delle ragioni per cui ci furono poi diciamo rivolte contadine ci fu il bianno rosso sostanzialmente insieme alla classe operaia e ai movimenti contadini anche meridionali del paese dove sei nato tu e sono nato io dove è nato pure lui Andrea dove Gramsci ne parlò anche di questo faremo anche un approfondimento la proprietà privata dei mezzi di produzione la fabbrica la fabbrica è dello Stato in quella fase diciamo che siamo ancora nell'idea di uno Stato centralizzato che è proprietario di tutto la fabbrica è dello Stato gli operai lavorano traggono un salario eccetera non c'è un proprietario decidono loro le cose da fare in maniera collettiva decidono le produzioni fanno gli investimenti la terra viene data poi c'è lo scontro con i culacchi tu l'hai spiegato che è uno dei problemi centrali anche in Italia dove c'è una frammentazione della grande proprietà terriera c'è uno scontro la grande proprietà terriera agirà lì in controrivoluzione tenterà si alleerà per fare la controrivoluzione e in Italia lo stesso arriverà col fascismo per far passare il fascismo per distruggere le organizzazioni socialiste le camere del lavoro e per riportare i contadini in una condizione di subordinazione questo è il dato storico di quel momento quando si è detto che è effetto dalla grande guerra quella grande guerra da una parte saltano gli imperi sparisce l'impero ottomano l'impero austro-ungarico tutti gli imperi spariscono e rinascono gli stati nazionali questo sono l'impero brità vabbè quella è globalizzata e quella è rimasta ancora oggi e diciamo che io dico sempre ragazzi non dico anticipare ma per collegare perché purtroppo la tendenza è a studiare a compartimenti stani che come dicono tutti la prima guerra mondiale tutto ciò che accade tra la fine guerra dai trattati di Pag dal trattato di Pag non sono altro che il presupposto per la seconda perché poi rivedremo si creano i medesimi meccanismi allora stavo dicendo diciamo i caratteri diciamo le ragioni economiche la proprietà privata dei mezzi di produzione che la fabbrica è un mezzo di produzione la campagna è un mezzo di produzione per fare i prodotti agricoli le fabbriche gli uffici sono un luogo è un mezzo di produzione per fare la burocrazia per fare le cose eccetera quindi questo era diventato tutto di proprietà dello Stato sì diciamo che quando loro mi hanno chiesto quando ho spiegato la rivoluzione russa ho cercato anche di far capire che il comunismo in genere contrasta l'individualismo e quindi anche l'arricchimento personale cioè non è possibile che qualcuno l'arricchimento personale lì non c'è diciamo oddio c'è un problema moderno ecco guardiamo anche la storia contemporaneissima il caso della Cina diciamo Marx si starà rivoltando nella tomba perché non prevedeva che ci doveva stare sarebbe stato poi uno Stato col partito comunista al governo che ha il turbo capitalismo all'interno cioè c'è uno sviluppo capitalistico anche se va letta bene la via diciamo cinese allo sviluppo dove c'è capitalismo però c'è una che non lo conosciamo bene però quello va profondi però è strano che c'è il partito comunista al governo e lì la proprietà dei mezzi di produzione è privata dopodiché diciamo purtroppo per arrivare ad analizzare la questione cinese per quanto riguarda la storia che si studia a scuola dovremmo arrivare dopo la seconda promoviglia è una questione che i libri però molte volte alcune spiegazioni date su contemporanea aiutano anche a capire il passato perché ti pone il problema conoscere la Cina non è uno scherzo oggi al di là dei coronavirus che globalizzano anche quelli ma conoscere una delle più grandi potenze economiche mondiali non è una cosa da niente il futuro sta nell'Asia paradossalmente noi Europa se continuiamo così ormai siamo diciamo una serie B stai parlando dei ragazzi una serie B del mondo no 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 ma ragazzi non abbiamo l'essenziale ve lo dirò dopo per quanto riguarda la mia idea la seconda puntata perché quando è molto allora le ragioni ideologiche poi come ho già detto sono altrettanto diverse qui il fascismo e il nazismo si dichiarano subito apertamente totalitario lo dicono noi vogliamo uno stato totalitario eccetera eccetera imperialisti perché anche il fascismo fa la guerra diciamo in Abissinia in Eritrea ammazza ad Addis Abeba in un solo giorno 20.000 persone bambini e donne comprense e vi prego di non fare l'errore di qualche mio vecchio studente Addis nome Abeba cognome è una città una città allora non solo imperialisti anche razzisti vedete poi le leggi razziali che ci sono state abbiamo guardato abbiamo letto un brano del Mein Kampf il nazismo il nazismo considera i non ariani dei under mentioned dici in tedesco i dei sotto uomini sei anche il tedesco no stava scritto l'ho imparato dice qualcuno suggerisce sub umani sub umani o sub umani sotto umani da eliminare o da schiavizzare e agisce con il genocidio delle ebrei e di altre dei lizingere dei anticomunisti e anche altre minoranze che ritenevano sì e abbiamo anche i testi il comunismo che parte parlano anche dei disabili i ragazzi poi facendo il sociosanitario sono rimasti abbastanza sconvolti perché sul testo appunto il testo sottolinea il fatto che il nazismo avesse poi promulgato delle riforme per togliere l'assistenza ai disabili per accennerarne praticamente la morte perché è contro ogni forma di imprecisione fisica non solo il nazismo spartani non spartani nel senso spartani proprio nel senso ma non solo i nazisti hanno fatto esperimenti sulle persone drammatiche tra l'altro hanno come tutti gli idioti folli di questo mondo tentato di creare la super razza cioè fecero una spesa di cose gelene dalla teoria niciana del super ruolo e crearono dalla super razza dei grandi stupidi perché quelli poi non ne hanno detto ma vennero fuori delle cose a brormi sì qualche studente Sardi Mengele sono abbastanza sadici come vedete poi il comunismo invece dichiara di voler liberare di voler liberare i lavoratori dallo sfruttamento e abolire la divisione della società in classi secondo i ragionamenti di Marx eccetera la divisione della società in classi è una delle ragioni dei conflitti sociali che in tutta la storia si sono sviluppati patrizi plebei borghesia la stessa rivoluzione francese la stessa rivoluzione francese da cui prendiamo tutti vita come stati liberali diciamo la libertà moderne è una